Credo che sia importantissimo avere un chiarimento adesso subito dopo le ferie, quindi a settembre, con Regione Lombardia, con l'assessore del Tenno, perché di fatto Regione deve dare dei segnali su questi ambiti, perché sono di stretta competenza regionale e bisogna capire quali siano le intenzioni di tutelare il territorio da parte della Regione. Una notizia preoccupante da chiarire al più presto. Così il sindaco di Como, Mario Lucini, commenta l'ultima mazzata per ripendolare i comaschi e in generale per il sistema ferroviario della città. Dopo il declassamento di Como-San Giovanni da Scallo Internazionale a stazione locale, infatti, nelle ultime ore è arrivata un'altra novità altrettanto negativa, come la decisione della vicina Svizzera di sospendere il finanziamento del servizio ferroviario regionale Chiasso-Como-Albate. A partire dal 15 dicembre 2013, dunque, la linea S10 circolerà con tutte le corse fino alla stazione di Chiasso, salvo i servizi che proseguono fino a Milano Centrale. C'è qualcosa che non funziona, anche perché questo servizio era pagato interamente dalla Confederazione Elvetica, quindi era a costo zero per l'Italia, ma Regione doveva realizzare delle iniziative di supporto, tipo il posteggio a Camerlata, tipo il miglioramento della stazione, interventi che avrebbero potuto anche incrementare l'utenza e quindi rendere più sostenibile il servizio. Quindi io spero che ci siano ancora i margini, visto che si parla di metà dicembre, per recuperare almeno questa situazione con gli interventi che si dovevano fare. Sulla stessa linea il presidente del Codacons di Como, Mauro Antonelli, che oltre a puntare il dito contro le scelte non fatte negli ultimi anni, dal punto di vista delle infrastrutture, chiede un tavolo politico per risolvere la questione. Questa cosa va risolta sul piano politico, perché ricordiamo che Tilo, che è questa impresa svizzera, ha anche una partecipazione italiana, quindi bisogna aspettare a settembre, bisognava immediatamente, noi diciamo immediatamente, bisogna che la regione Lombardia, il presidente Maroni, ma anche il commissario della provincia, il sindaco di Como, si trovino con i vertici di questa società, perché vedete che questa cosa deve trovare una soluzione politica immediata, perché non è possibile che i treni si fermino a chiasso. Dal canto suo, Ettore Maroni, portavoce dei pendolari di Comaschi, si dice preoccupato per le conseguenze sui viaggiatori, anche in previsione del declassamento della stazione di San Giovanni, con la revisione della linea Eurocity Zurigo-Milano. Sarà sempre più difficile raggiungere Como per i pendolari, dice Maroni, perché se da un lato gli Eurocity si fermeranno a chiasso, dall'altro ci sarà anche una linea regionale in meno.